Il divano che hai sempre sognato in 24 ore a casa tua, Sofà L'Affare. Vieni a visitare il nostro showroom in via Campitelli 3 a Foligno o consulta il nostro catalogo online. Consegna in tutta Italia in 24 ore e pagamento solo dopo la consegna. Sofà L'Affare da oggi non è solo divani di prima scelta, ma anche letti e materassi su misura per soddisfare ogni esigenza. Arredi zanagiorno e zananotte. Da noi trovi tutto quello che cerchi per il tuo relax. Sofà L'Affare, la tua fortuna è venirci a trovare. L'UoDesign, il luogo dove l'arte prende forma. Complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centrotavola, vasi, lampade, pezzi unici sapientemente creati dall'artista Liuva Machaira Gome. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni nel nostro laboratorio showroom in piazza Valmerina, via della Bardesca 5. Dopo quella di Castiglione del Lago, arriva anche la prima vittoria al Blasone per la Fulgenze Foligno. Brava a superare un avversario insidioso come l'Olimpia Tirus con un punteggio 3-0, che rende abbastanza bene quello che si è visto in campo. Padroni di casa che hanno giocato con pazienza, aspettando il momento giusto, lavorando ai fianchi fino a conquistarsi l'episodio del rigore che ha dato il là al successo. Niente da fare per la squadra di Sugoni, in 10 per un'ora, ma comunque in gara fino alla mezz'ora della ripresa. Andiamo a vedere i riflessi filmati del match. Inizio abbastanza equilibrato, ma la Fulgenze Foligno ci mette poco a prendere campo. La formazione di Manni fa circolare bene il pallone e con un buon pressing prova a costringere all'errore la difesa di casa, che però non si disunisce e tiene duro. La prima vera occasione del match arriva al ventesimo, con settimi per i padroni di casa che, sugli sviluppi di un corner, pennella a centro aria per Nuti, che di testa indirizza però fuori. Fulgenze che insiste, ma senza trovare lo spunto giusto, nei 16 metri avversari. Al trentatresimo invece si vede anche la Tirus, filia abbastanza arroccata e poco presente nella metà campo locale. In area folignata si origina in batti e ribatti, che Poggi legge bene per coordinarsi al volo, ma non è altrettanto bravo a mettere paura a Lori. La svolta arriva al trentacinquesimo. Giubilei controlla male un pallone al limite, Kribek glielo sfila e il difensore lo butta giù in piena area. Rigore ineccepibile e cartellino rosso per il giocatore Ternano. Dal dischetto Kribek realizza e segna la sua terza rete personale in campionato. Fulgenze e Foligno che a questo punto si trova nelle migliori delle situazioni, nel quarantesimo potrebbe anche raddoppiare. Bruschi ruba palla a Mengoni sulla tre quarti, entra in area dopo aver superato un avversario e allarga su Kribek che di prima intenzione mette basso sul secondo palo, dove in scivolata di Cato impatta ma non riesce a dare forza al pallone e 40 può evitare il 2-0. Andiamo alla ripresa. Tiruse che comincia con coraggio. Nonostante l'uomo in meno, la squadra di Sugoni cerca di portare pressione all'area avversaria, sfruttando l'atteggiamento attendista dei padroni di casa. Nonostante il tecnico Manni si sgoli in tribuna, ordinando di alzare il baricentro. I richiami del tecnico sembrano fare effetto. Al diciannovesimo una grande falcata di Mattia fa guadagnare metri locali. Palla allargata a destra per Di Cato che mette al centro, dove Calderini, entrato dopo un problema muscolare a Kribek, colpisce sporco, sprecando una nitida occasione. La formazione di casa insiste al venticinquesimo, nel giro di pochi secondi, manca il raddoppio almeno tre volte. Mattia sgroppa ancora e verticalizza per Durso, la cui sponda al limite innesca Di Cato, che perde l'attimo e 40 lo chiude in corner. Dall'angolo Sedran colpisce di terza di testa a centro aria ed esalta i riflessi del portiere ospite. Palla che torna sull'auto ancora a Di Cato, che trova dalla parte opposta con un cross Calderini, ma l'ex Arezzo spara però alle stelle. Il gol del 2-0 è nell'aria e arriva al 32esimo. Altra azione tambureggiante dei padroni di casa con Durso che allarga per Di Cato. Palla in mezzo per Settimi. Tiro a centro aria svirgolato, ma che di fatto diventa un assist per Calderini, che stavolta sul secondo palo non perdona e sigla la sua prima rete personale in campionato. Latirus a questo punto molla gli ormeggi. I padroni di casa realizzano il 3-0 al 36esimo. Intervento sbagliato di Dita, che spazza male un pallone messo dentro. E di fatto serve Settimi, che è reso terra da posizione centrale in fila 40. Il portiere ospite è bravo a evitare che il risultato diventi più besante al 39esimo, salvando prima su Durso e, pochi secondi dopo, sulla staffilata di De Santis. Nel finale sfuma ancora il 4-0, prima con Calderini che si incarta davanti al 40 al 45esimo, poi nel recupero al 48esimo la traversa di Cenò a Tempesta. Fulgens quindi che si gode la vetta insieme all'atletico BMG. Noi ci abbiamo messo del nostro per indirizzare la partita in questo senso, però noi dobbiamo crescere perché ogni anno comunque sia l'Olimpia qualcosetta cambia, è una squadra composta maggiormente da ragazzi e quindi non è così semplice che uno gira la chiave e ti ritrovi una squadra, cioè bisogna lavorare, bisogna crescere tanto, perché questo è un campionato difficile e noi ci proveremo fino alla fine, ma non è così semplice cercare sempre un gioco preciso, perfetto, dietro ci serve un po' di lavoro. Alla fine è venuto un risultato che poteva essere anche più rotondo, però magari abbiamo preferito fare altre valutazioni che poi ci serviranno in futuro, perché ormai questa partita era andata. Punteggio anche giusto? Sì, l'avevamo preparato in settimana così, sapevamo di affrontare una squadra comunque sia che provava sempre a giocare dal basso, quindi avevamo deciso di attaccarli alti, infatti su un errore in uscita siamo stati bravi a sfruttare l'occasione, a prendere il rigore e l'espulsione. Poi la partita si è messa in discesa, però non è mai facile chiuderla. Una fulgenza che può con queste prestazioni anche puntare a un campionato molto divertice. Sì, noi sappiamo di essere una squadra con dei valori importanti, però è chiaro che bisogna lavorare perché c'è tanto da migliorare, siamo una squadra totalmente nuova, abbiamo giocato poco nel precampionato, ma questo non è assolutamente un alibi. Mano a mano che passano i giorni e gli allenamenti ci conosciamo sempre di più, e poi in campo comunque sia penso che anche oggi si è visto che i meccanismi iniziano ad orviarsi in maniera importante.